Da martedì 3 agosto al Palazzetto dello Sport di Colle dell'Ara Chietiscalo sarà attivata la nuova sede vaccinale anti-covid. Lo conferma al Tg8 il sindaco Diego Ferrara dopo aver effettuato un nuovo sopralluogo questa mattina con i tecnici della ASL e del Comune. Il primo cittadino spiega che il sopralluogo ha dato esito positivo in relazione all'impianto di condizionamento e si sta mettendo a punto la logistica e l'accoglienza dell'utenza e che a regime nel lab saranno somministrati almeno 500 vaccini al giorno grazie alle sei linee di vaccinazione che saranno in funzione. Noi siamo pronti per martedì mattina della prossima settimana. La piattaforma delle poste è che dovrà correre un pochettino ad avvertire le persone che non debbono andare più al Palauda ma a Colle dell'Ara. Quindi io penso che qualche piccolo disagio ci sarà nei primissimi giorni della settimana prossima ma poi tutto confluirà come deve. Diciamo che con la necessità che molti adesso hanno per il rilascio del Green Pass noi stiamo osservando un rilancio delle vaccinazioni e di conseguenza dovremo lavorare molto alacremente. Certo il palazzetto è accogliente con l'aria condizionata però metteremo anche dei gazebo fuori, distribuiremo bottigliette di acqua minerale per alleviare i disagi della popolazione però è chiaro che se continuerà questo caldo qualche disagio ci sarà e quindi io invito la popolazione ad avere un po' di pazienza perché il fine ultimo di questi sforzi che stiamo facendo è di arrivare all'immunità di gregge e quindi nonostante le varianti che sono in circolo di questo virus attenuiamo di tantissimo la virulenza della malattia e facciamo sì che pur contraendola non finiamo in ospedale. In fin dei conti questo è il fine ultimo, quello di trasformare questa pandemia, questa terribile pandemia in una forma di influenza.